Boazesse su Facebook. 18 ottobre 2017. Palliwod, quando ci sono di mezzo i musulmani carnefici interpretano invariabilmente il ruolo le vittime. Da oltre dieci anni i terroristi musulmani Rohingya attaccano i villaggi dei buddhisti, bruciandone le case e costringendo alla fuga gli abitanti, decapitato i monaci buddhisti, violentandone le donne e nessuno tra i media se ne è mai occupato. Dal ONU al Vaticano hanno tutti taciuto fino a quando l'esercito ha dovuto combattere i terroristi. Ora gli stessi media e i loro sponsor dimostrano la loro disperazione nel tentativo di allontanare il dubbio che sì, il problema stia proprio nei testi santificati per secoli contenuti nel Corano. E basti guardare al tentativo di trovare dei musulmani oppressi in qualche parte del mondo mentre trascuravano le radici religiose delle persecuzioni contro ebrei, cristiani, yazidi, buddhisti, induisti, atei e minoranze sessuali ovunque nei paesi a forte influenza musulmana. Ora in nome di questo hanno addirittura sacrificato un loro idolo come Aung San Suu Kyi, ma stanno mentendo sapendo di mentire. Gli islamisti di Rohingya hanno creato ghetti all'interno del Myanmar in cui hanno imposto la Sharia dando vita a gruppi radicalizzati e molto violenti grazie ai fondi provenienti dall'Arabia Saudita. La gente del Myanmar li ha accolti per decenni ma come sempre funziona con gli islamici, aumentano la loro popolazione e diventano sempre più ostili nei confronti della popolazione locale. Ora che anche il Bangladesh ha rifiutato di accettare i musulmani di Rohingya, temendo la portata della radicalizzazione islamica in questa popolazione avviene il miracolo e il mondo letteralmente si accorge dell'esistenza della Birmania. Vergognosamente vengono spacciate per attuali foto risalenti alle devastazioni dell'uragano che colpì quelle zone nel 2008 sono arrivati ad attribuire le mine poste al confine tra Myanmar e Bangladesh all'esercito quando si tratta di mine islamiche poste durante la guerra del 1990. Non ci sono giornalisti o fotoreporter nella zona, indagate e vedrete ma lo dice la stessa leader del Myanmar. I Rohingya avrebbero potuto essere cittadini del Myanmar se avessero rispettato le regole di quella nazione e di quel governo. Ma non lo fanno, non vogliono vivere insieme agli altri pacificamente ma imporre uno stato nello stato governato dalla legge islamica. Il 25 agosto terroristi musulmani hanno attaccato di notte 30 stazioni di polizia uccidendo i poliziotti, hanno bruciato le case delle persone di Rohingya, sgozzato 79 monaci buddisti costringendo alla fuga migliaia di persone. Qualcuno forse lo ha notato nelle redazioni della Clinton News Network. Se l'esercito non avesse reagito lo stato di Rakhine sarebbe diventato un califato islamico e per questo i musulmani sono fuggiti dal paese verso il Bangladesh per trovare rifugio e sono stati respinti, la celeberrima solidarietà islamica. Ora tutti parlano di pulizia etnica ma ripeto mentono sapendo di mentire nel disperato bisogno di trovare dei musulmani perseguitati tutti piegati ai disgustosi scopi del globalismo pur che sia. Se volete nemmeno il termine, Rohingya è un nome di un gruppo etnico né un nome storico, ma questo nome è stato inventato per un movimento politico legato ad un movimento islamico. Non è nemmeno una specifica etnia, essenzialmente si tratta di un termine politico. Nel dialetto kitagong del linguaggio bengalese la terra Rakhine-Arakan, è chiamata, Roan e il popolo Rakhine-Arakanese viene chiamatato, Roan Ghia. Roan uguale Rakhine, Ghia uguale uomo. Alcuni dei secessionisti musulmani utilizzarono il nome per identificarsi come nativi dell'Arakan, da cui deriva il nome del loro gruppo terroristico. Si sono autodenominati, Rohingya, deformando il nome dei veri nativi di Arakan, Rakhine, in lingua bengalese. Questo è il motivo per cui tutto il popolo della Birmania non può accettare quel termine e perché sono consapevoli dei dati storici e vedono chiaramente il gioco politico con ambizioni di secessioniste da parte di una minoranza islamica assolutamente non autoctona e in larga parte composta da clandestini. Ne vedremo delle belle in Italia ma guai a dirlo se non si vuole esser tacciati di islamofobia. E infatti mancava solo che questo papa, che non risponde agli appelli disperati dei cristiani perseguitati dai musulmani decidesse di andare in Myanmar il 27 novembre per perorare la sempre più improbabile causa islamica. Ma quale genocidio? Citazione